Il Colosseo è stata la cornice dell'apertura del G20 della Cultura. Oggi i ministri delle 20 maggiori economie mondiali discuteranno dei temi che stanno a cuore al settore, tra questi le politiche di conservazione e protezione, il traffico illecito di opere d'arte e la riapertura dei musei dopo la pandemia. Padroni di casa, il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Cultura Dario Franceschini. La pandemia ci ha fatto anche capire quanto la cultura sia la linfa delle nostre vite. Le piazze vuote, i musei vuoti, chiusi come i cinema, i teatri, le biblioteche, hanno reso le nostre città tristi, come spente. Per questo ora sappiamo che sarà la cultura la chiave della ripartenza, il motore di una crescita innovativa, sostenibile ed equilibrata. L'obiettivo è quello di creare un'agenda comune perché, per dirla con le parole di Franceschini, quando un monumento millenario è minacciato, siamo tutti coinvolti.